La nostra associazione Permito vuole che la musica sia per tutti, vuole che sia dappertutto e vuole che sia con tutti e soprattutto vuole che sia continuativa tutto l'anno. E questo perché la musica è uno strumento importantissimo per la crescita culturale, per la valorizzazione degli spazi e dei luoghi dove avviene e per il superamento di ogni barriera, per cui ascoltando la musica non si fanno più guerre, litigi, contenziosi, ma si ascolta la musica e basta. Associatevi quindi e state con noi per contribuire a costituire con la musica una specie di fuorisalone che per tutto l'anno arricchisca la vita della nostra città. Con Mito Onlus www.permito.it potete associarvi e contribuire a questo nostro progetto.